Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Mentre aspettiamo l'attesissimo campionato del mondo tra Karzen e Nepomniši, ho pensato ad una miniserie però molto approfondita sui precedenti incontri mondiali di Magnus Karzen. Partiremo quindi dal 2013, quando Karzen, dopo aver vinto il torneo dei candidati, sfida nella città di Chennai, il campione del mondo in carica, una leggenda degli scacchi di indiano Vishyanand. Le prime quattro partite della sfida finiranno in parità e stranamente in tutte e quattro è stato sempre il nero a trovare posizioni leggermente migliori. Stiamo per vedere insieme la quinta decisiva partita dove Karzen giocherà invece di bianco. Partiamo! Magnus Karzen apre la partita con C4, quindi l'apertura inglese, ma Anand non vuole entrare in queste linee, gioca E6, quindi vuole rientrare nelle linee del gambetto di donna. Una continuazione interessantissima per il bianco è cavallo in C3 e poi la spinta in E4, questo è il cosiddetto attacco Flor-Mikenas, invece Karzen accontenta il campione del mondo, gioca D4. Allora la spinta centro in D5, cavallo in C3, arriva C6. Siamo entrati nella semislava, con un ordine di mosse però accelerato, vedete che manca infatti il cavallo in F6? Questo sistema oggi è chiamato il triangolo, sistema solidissimo che dà anche grandi difficoltà al bianco. Qual è però il difetto di ritardare lo sviluppo del cavallo in F6? Che si ha meno controllo sul centro, in particolar modo sulla casa E4. E infatti Karzen spinge subito in E4 questa linea chiamata il gambetto Marshall, ma stranamente Karzen non cederà il pedone. Vediamo infatti che cosa succede. Dopo D per E4 il cavallo ricattura, arriva alfiere in B4 con scacco, ora adesso la continuazione principale e di gran lunga più giocata, proprio il gambetto Marshall, continua con alfiere in D2. Vedete che questo alfiere blocca la protezione della donna verso il pedone centrale, allora il nero vince un pedone, perde però la coppia degli alfieri, recupera il pezzo in E4, alfiere in E2 possiamo fermarci qui. E' chiaro che il bianco ha un pedone di svantaggio, ma il compenso c'è come, perché il bianco ha la coppia degli alfieri e c'ha anche un certo vantaggio di sviluppo. Ritorniamo a noi, invece dopo E4, D per E4, cavallo per E4, arriva alfiere in B4 con scacco, ma Karzen, come nelle precedenti partite, cerca di uscire il più velocemente possibile dalle linee principali. Porta indietro il cavallo in C3 e, pensate, nessuno dei due giocatori aveva mai giocato questa posizione prima, quindi il pedone è protetto dalla donna. Allora, con il cavallo inchiodato arriva C5, quindi giusto e forte l'attacco di Anand verso il centro. Qui il solito discorso, se il bianco cambia, il nero gli cambia le donne con vantaggio, arriva A3 ad infastidire l'alfiere. Alfiere in A5, cavallo in F3, adesso il pedone è di nuovo protetto due volte, e quindi Anand sviluppa il cavallo in F6. Alfiere in E3, buona, ottima mossa di sviluppo, ma non è una vera e propria minaccia sul pedone C, infatti ne uscirebbe una brutta posizione per il bianco. Infatti Anand non se ne preoccupa, gioca il cavallo in C6. Karzen continua con donna in D3, che fa due cose buone, proteggendo il cavallo, salva la struttura, impedisce la centralizzazione, il salto del cavallo nero in E4. Ritorniamo indietro di una mossa, andiamo un po' a vedere cosa succede dopo D per C5, non giocata da Karzen, perché il nero cambia le donne, donna per donna in D1 con scacco, la torre ricattura, arriva il cavallo in E4, e qui in pratica inizia ad essere un po' passiva, un po' brutta questa posizione del bianco. Quindi ritorniamo a noi, quindi per questo motivo non si cattura il pedone, Karzen invece gioca donna in D3. Ora C per D4, il cavallo, quindi tra alfiere e cavallo naturalmente è il cavallo che ricattura, e alla mossa 11 arriva la vera e propria novità della partita giocata da Anand. Cavallo in G4, questa è la novità che rende la partita originale, perché nell'unica precedente partita che ho in database con questa posizione, il nero aveva giocato la seppur buona cavallo in E5, che quindi prende un tempo perché attacca la donna, ma io preferisco di gran lunga questa idea di Anand che va contro la coppia degli alfieri. Allora, qui Karzen continua con l'aggressiva a Rocco Lungo, il cavallo viene cambiato sull'alfiere in E3, il pedone F ricattura. Ora, oltre ad avergli tolto la coppia degli alfieri, Anand ha creato a Karzen anche un difetto nella struttura pedonale. Allora, questo alfiere che non inchioda più il cavallo perché il re non è più al centro, viene riposizionato in C7. Ma guardate che succede, perché Karzen cambia i cavalli in C6, quindi anche lui dà al nero un problema nella struttura pedonale, il pedone B ricattura in C6, Karzen va anche al cambio donne. Donna per donna, l'alfiere ricattura, alfiere in E2. Quindi Karzen di bianco completa lo sviluppo, senza le donne sulla scacchiera, e con la possibilità che ci siano altri cambi di pezzi che porterebbero direttamente nel finale, Anand gioca giustamente re in E7, perché senza le donne sulla scacchiera il re sta bene più vicino al centro. Quindi fermiamoci un attimo, cosa possiamo dire di questa posizione? Possiamo dire che il nero ha la coppia degli alfieri, ma il bianco ha un piccolo vantaggio di sviluppo, e sembra anche avere un po' più di spazio. Allora, alfiere in F3 attacca ed inchioda il pedone sulla torre, bisogna difendere con alfiere in D7, arriva il forte salto del cavallo in E4. Questo cavallo centralizzato minaccia due cose, e minaccia di saltare in D6, dove il bianco può creare spingendo in C5 un fortissimo avamposto, oppure può saltare in C5 attaccando questo alfiere chiaro insieme alla torre, quindi indirettamente attaccando anche il pedone in C6. Cosa fa Anand? Gioca alfiere in B6. Qui si minaccia di catturare con scacco, si controlla questa casa C5, ma Karsen C5 lo può giocare lo stesso. Ora, molto preciso Anand, che non gioca alfiere in C7, perché alfiere in C7 sarebbe totalmente inutile, andiamo a vedere che succede. Alfiere in C7 non serve a niente, perché il cavallo salterà ugualmente in D6, un cavallo che non si può rimuovere, perché pensate, se alfiere per cavallo non solo si cede la coppia, il bianco ha creato un pedone passato avanzatissimo e pericolosissimo. Quindi Anand lascia l'alfiere sotto attacco, gioca a F5, prende spazio, attacca il cavallo. Allora, C per B6, F per E4, arriva in questa posizione una mossa precisissima di Karsen, perché invece di riprendere subito che cosa farà, giocherà a B7, e B7 è importantissima, perché non permette al nero di ricatturare col pedone e quindi tenere tre isole pedonali e invece adesso gliene rimangano quattro. Ora qui adesso è più pericolosa la minaccia del bianco sulla torre, quindi Anand deve spostare la torre in B8. Alfiere per pedone, torre per pedone, fermiamoci un attimo, mossa 22, la posizione adesso è cambiata perché Karsen è riuscito a togliere ad Anand la coppia degli alfieri, è successa però anche un'altra cosa spiacevole per il nero, il nero adesso ha la struttura peggiore. Quindi sicuramente in questa posizione il bianco è un po' più semplice da giocare. Allora, cosa fa Karsen? Porta la torre sulla colonna aperta, quindi torre in H che va in F1, attenzione, la torre del nero non la può contrastare perché sta proteggendo il pedone in H7, arriva invece torre in B5. Torre in F4, l'idea è chiaramente il raddoppio dei pezzi pesanti sulla colonna F, arriva a G5. La torre sotto attacco non vuole giustamente retrocedere in F2, rimane sulla terza traversa dove protegge il pedone e si può anche pensare a spostare questa torre sulla colonna H e quindi arriva infatti H5. Non soltanto qui si farà pressione sulla torre che ora non si può più spostare sulla colonna H, viene liberata la torre in H8. Allora Karsen comunque raddoppia le torre sulla colonna F e per impedire però l'entrata della torre in settima Anand gioca alfiere in E8. Ora attenzione perché un'altra idea del nero è torre in E5 che poi di riflesso attaccherà il pedone e attenzione perché la torre unico difensore del pedone potrà essere attaccata e fatta spostare e quindi per questo motivo Karsen gioca alfiere in C2. Inizia adesso una fase della partita per i miei gusti molto bella dove ci saranno una serie di mosse e contromosse che però devono essere molto molto precise. Anand gioca a torre in C5 e inchioda l'alfiere sul re. Attenzione ad alfiere in G6. Allora torre in F6 impedisce questa alfiere in G6 e arriva H4. Arriva anche E4 A5. Vedete Anand cerca di prendere spazio e di limitare Karsen anche sul lato di donna. Re in D2 che cosa fa? Schioda l'alfiere e adesso attenzione c'è anche l'idea di alfiere in B3 quindi il pericolo il bersaglio diventa il pedone isolato in E6 Anand glielo impedisce giocando torre in B5. Non soltanto impedisce alfiere in B3 attacca anche il pedone. Il pedone si deve spostare in B3 alfiere in A5. Re in C3 attenzione ora a questa idea quindi alfiere in D3 alfiere che poi attacca questa torre quindi con tempo ma poi si può piazzare davanti e di nuovo il bersaglio diventa E6 di nuovo Anand gli impedisce questa manovra con torre in C5 con scacco. Allora il re si sposta si nasconde dietro i pedoni e protegge naturalmente l'alfiere arriva torre in D8 e attenzione perché la minaccia terribile è torre in D2 e quindi Karsen gioca torre in F2 necessaria a proteggere questa seconda traversa. Sono proprio queste a me quelle manovre che piacciono tantissimo. Torre in D4 guardate come Anand migliora tutti i suoi pezzi torre in H6. L'alfiere sotto attacco non torna di certo indietro torna in D1 attenzione perché questo alfiere se viene cambiato e poi alla fine si perde il difensore del pedone centrale in E4 quindi Karsen si deve tenere questo alfiere lo porta indietro in B1. Torre in B5 ora una partita come dicevamo molto posizionale però siamo ad un momento molto importante perché Anand inizia a fare minacce terribili ora non si può proteggere il pedone con la torre a parte il fatto che verrebbe subito catturata ma poi c'è anche il discorso della protezione della seconda traversa alfiere in A2 è troppo passiva alfiere in C2 non funziona andiamo un po' a vedere che succede se adesso il bianco gioca alfiere in C2 alfiere per alfiere la torre ricattura ma il re in D6 e qui il pedone casca per forza infatti se si cerca di proteggerlo la partita finisce subito dopo torre in D3 quindi incredibile quindi posizione molto complessa oltretutto ricordiamoci che siamo alla mossa 36 e quindi sicuramente Anand in questa posizione era un po' in debito di tempo ma anche per Carson non è che ci fosse tutto questo tempo per pensare come si risolve questa minaccia non la si può difendere si può creare una minaccia più forte ecco che arriva la minaccia di Carson la minaccia del nero è vincere un pedone e quella del bianco di vincere una torre quindi re in C3 giustamente Anand non indietreggia e invece avanza il pedone in C5 protegge la torre e mantiene questa terribile pressione ma questo re in C3 non solo aveva guadagnato un tempo ha anche liberato la casa B2 adesso la torre diventa il secondo difensore del pedone arriva anche E5 ora questo E5 fissa questa debolezza permetterà torre in G6 ora questa E5 è la mossa più precisa io mentre guardavo la partita senza computer proprio per prevenire la prossima mossa di Carson ritornando indietro di una mossa avrei giocato re in F7 proprio per non fargli giocare torre in G6 in realtà non è tanto buona guardate che succede torre in H7 con scacco re in F6 perché naturalmente mai sul chiaro se no si piglia in faccia lo scacco di scoperta prima o poi torre in C7 attacca il difensore della torre praticamente l'iniziativa ora qui il nero non deve fare il cambio e quindi l'iniziativa passerebbe in mano al bianco quindi guardate quanto sono difficili questi finali ritorniamo a noi quindi Anand è precisissimo alla mossa 38 gioca E5 che succede però? succede che Carson può giocare torre in G6 quindi attacca da dietro il pedone il pedone ora con il re non può essere protetto Anand seppur stia mettendo grande pressione al bianco dovrebbe giocare in tranquillità spingere il pedone in G4 dove il pedone è protetto dall'alfiere e probabilmente la partita finirebbe in parità e invece lui vuole sfruttare questa pressione gioca una mossa che non è sicuramente un errore ma è una mossa molto rischiosa per entrambi gioca A4 allora torre cattura in G5 mossa più precisa giocata da Carson ritorniamo indietro andiamo un po' a vedere che succede se adesso il bianco cattura in B4 questa cattura adesso non è buona invece in molte linee che vedremo nel proseguo della partita questa mossa c'è come torre per torre in B2 il re è costretto a ricatturare l'alfiere si riprende il pedone torre cattura in G5 re in F6 attacca e protegge torre in F5 con scacco re in E6 il pedone in C4 passato e ben supportato fa paura la maggioranza del bianco sul lato di re non passerà come maggioranza perché verrà attaccata con lo scacco torre in D2 con scacco quindi posizione complicatissima dove il nero non sta per niente male ritorniamo a noi quindi giustamente Karzen non fa questa cattura cattura invece in G5 si minaccia un'ulteriore cattura con scacco ora mossa 40 per Anand questa è l'ultima mossa prima dell'abbono di tempo il nero deve decidere quale ordine di catture e ricatture è il migliore ora in qualsiasi caso il bianco guadagnerà un pedone cioè si si terrà un pedone di vantaggio noi però sappiamo che un pedone in molti finali non basta per vincere la partita ora come giocherà Anand Anand giocherà torre cattura in B3 con scacco ritorniamo indietro ora qui le uniche due idee logiche sono re in F6 o re in D6 re in D6 che sarebbe anche interessante perché vuole rimanere accanto al pedone che poi diventerà un forte elemento del contrattacco non mi sembra funzionare benissimo perché qui veramente arriva B per A4 torre per torre il re ricattura l'alfiere cattura ma qui praticamente arriva lo scacco torre in G6 con scacco che sposta indietro il re e ci sono due possibilità per il bianco di andare dietro il pedone centrale oppure come succederà in partita dietro il pedone H quindi sicuramente il nero è ancora in partita ma mi pare che la situazione si complichi abbastanza ritorniamo a noi la seconda idea mi sembra più interessante re in F6 attacca la torre ma di nuovo c'è lo scacco re in E6 di nuovo B per A4 torre per torre che giustamente la torre era sotto attacco il re ricattura di nuovo arriva la cattura di Alfiere che si riprende il pedone torre in H5 ma guardate un po' una differenza fondamentale con quello che vedremo in partita arriva C4 e qui posizione molto complessa dove come dicevamo questo pedone fa un po' paura ritorniamo indietro mentre invece alla mossa 40 Anand cattura con la torre in B3 con scacco quindi torre per torre l'Alfiere ricattura permette a Karsen la cattura di torre in E5 con scacco re in D6 torre sotto attacco si porta in H5 arriva torre in D1 E5 arriva con scacco il re si porta in D5 quindi attenzione a non portare il re in E5 perché si può giocare lo scacco il pedone è intoccabile perché poi il re nero rimane sotto l'attacco di scoperta quindi sicuramente si vince il materiale adesso però questo Alfiere si libera alla mossa 45 Karsen gioca Alfiere in H7 momento importantissimo della partita perché la minaccia del bianco è ben visibile qual è? è Alfiere in G8 con scacco che poi vincerà un secondo pedone ora come si deve muovere il nero ci sono varie idee andiamo subito a vedere un'idea che non funziona C4 non giocata da Nand perde la partita perché dopo Alfiere in G8 con scacco il re si porta in C5 guardate che succede E6 a parte questo pedone è fortissimo oltretutto E6 scacco di scoperta il re costretto a staccarsi la torre cattura in H4 c'è un vantaggio enorme per il bianco allora ritorniamo a questo Alfiere in H7 ci sono due idee interessanti che sono torre in E1 allora Alfiere in G8 con scacco re in C6 è vero che il bianco vince il secondo pedone ma qui arriva l'intermedia quindi lo scacco re in B2 torre cattura in B3 con scacco quindi vedete il pedone non lo vince qui perché il problema è che qui si libererebbe un altro pedone passato quindi il re è costretto a spostarsi in A2 torre in E3 dietro il pedone passato il bianco vince un pedone qui attenzione perché i due connessi farebbero paura quindi torre in E2 con scacco importantissima questa mossa il re si sposta e praticamente il nero a gioco corretto seppur un finale complesso dovrebbe pattare con un'idea simile a questa per ritornare per l'ultima volta a questo alfiere in H7 mossa 45 con la minaccia di Karzen di vincere il secondo pedone forse la difesa più corretta è torre in A1 un'idea simile perché arriva alfiere in G8 con scacco re in C6 alfiere per alfiere ora naturalmente non si perde il pedone perché la torre cattura in A3 attacca ed inchioda questo alfiere sul re il bianco vince il pedone in H4 torre cattura in B3 con scacco non si può rendere il re attivo se no si prende l'infilata si perde la partita quindi re in C2 torre in E3 di nuovo dietro il pedone passato e di nuovo con l'idea di dare lo scacco da E2 torre cattura in A4 e di nuovo la cosa importante è quella di isolargli i pedoni anche questa volta il nero si salva ritorniamo invece alla nostra partita qui cosa succede? succede che Anand con torre in C1 con scacco si complica di parecchio la vita perché il re si sposta rimane a guardare l'alfiere attacca la torre la torre si deve spostare e questo è il momento critico della partita perché siamo arrivati al nostro quizzone le varianti che abbiamo visto prima ci suggeriscono l'unica buona difesa per il nero quindi mettete pure in pausa e da voi la parola ritorniamo subito a questa partita la buona difesa è torre in E1 purtroppo non giocata da Anand perché dopo tutti gli scacchi e i cambi arriva di nuovo questo scacco che toglie questi pedoni sul lato di re e quindi anche in questo caso seppur dovendo giocare con estrema precisione il fatto che il re sia ben centralizzato e vicino al pedone c che può ancora avanzare dovrebbe consentire al nero di pattare la partita e invece ritorniamo al momento critico perché Anand gioca torre in G1 dietro al pedone G arriva alfiere in G8 con scacco il re costretto a spostarsi in C6 guardate adesso la precisione di Karzen torre in H6 sposta il re ancora più indietro re in D7 lontano dal pedone C il pedone C non è neanche avanzato soltanto adesso alfiere per alfiere in B3 pedone A ricattura il re ricattura brutta storia c'è il pedone passato lontano allora torre cattura in G2 se non altro gli ha tolto il 2 contro 1 torre cattura in H4 ora qui mossa più precisa è giocare torre in E2 ma qui il problema è che è già successo tanto perché che cosa è successo è successo che Karzen ha due pedoni di vantaggio e come dicevamo l'unico elemento forte del nero il pedone C non è avanzato è ancora nella sua metà campo e non è neanche ben supportato allora re in E6 Anand cerca di riattivare il suo re ma qui arriva a 4 quindi il pedone passato inizia dalla sua marcia grande precisione di Karzen che lascia addirittura il pedone centrale in presa re cattura in E5 ma arriva anche a 5 con re in D6 il re rientra nel quadrato del pedone arriva a torre in H7 re in D5 quindi Anand tenta un disperato contro gioco ma il pedone passato continua ad avanzare e vedete che la torre non gli si può piazzare dietro perché c'è il re che controlla queste case allora c4 con scacco re in C3 adesso si che questa torre si può piazzare in A2 torre in A2 ma questa torre in H7 è arrivata giusto appunto a proteggere il pedone che si muove in A7 re in C5 mossa 58 per il bianco ecco qui qual è il grossissimo problema il grossissimo problema è che Anand ha due pezzi oltre al pedone il re non si può muovere da questa zona se no si perde il pedone centrale più che altro è la torre il grosso problema che non può abbandonare la colonna A perché sta proteggendo la casa di promozione a 8 Carlsen però ha un altro elemento e questo pedone lo avanza Anand alla mossa 58 abbandona perché non potrà difendersi anche da questa minaccia una battaglia lunghissima quindi vinta da Carlsen dove Anand ha forse sentito il peso degli anni ricordiamoci infatti che mentre Carlsen aveva 23 anni Anand con 44 ne aveva quasi il doppio con questa vittoria Carlsen si porta in vantaggio nella sfida mondiale ditemi se la partita e l'idea di questa miniserie vi è piaciuta e soprattutto non scordate di iscrivervi al canale per aiutarmi a farlo crescere io come al solito vi ringrazio tantissimo per l'ascolto e noi ci vediamo domani con un nuovo video a presto